Va bene Tiro della fenice invisibile Beh block Questa forse la prende Invece no Tiro della fenice Questa forse la prende Questa forse la prende Tiro della fenice invisibile Va bene Un blocco Niente si fa Un blocco Tanto questo portiere non ha tecniche speciali Vai No l'ha passata Maledizione Prendete questa cavolo di palla Vai Joan Castro Niente Ah decide di Tirare Perfetto Non c'è adesso un blocco Così posso farvi vedere La parata del portiere No Perché Fermatelo Oh No niente Di nuovo Che pizza Oh Va bene amici Spero che questo video vi sia piaciuto Nel caso lasciate like E iscrivetevi al canale Comunque Sono due parti E questa è la compagnia Zemele Event 3 Nel scorso video Amici Nei scorsi due video Amici Vi ho chiesto 4 like Per Per una nuova lega Di capitazio basa Ma Visto che Vi è interessato questo video Perché ci sono Un Diciamo Metà delle visual Quasi la metà delle visual Dei miei scritti Credo che riporterò la lega Comunque Il mio Instagram Rizzo 886 Telegram EnzoGamer 897 Baro Enzizio 9 E noi ci vediamo alla prossima Bella Ah E Facebook Enzo Vizzo Se non ve l'ho detto Comunque Bella a tutti